Penso che il teatro contemporaneo adesso ha la responsabilità di rispondere a un mondo dove il modo ordre partecipa. Tutti siamo spinte a partecipare, a partecipare con le app, a partecipare alla politica, a partecipare facendo turismo, a partecipare, a partecipare, a partecipare. E forse il teatro è l'unica arte che può prendere questa partecipazione come un dispositivo critico e provare a cercare le paradosse e la crueltà di questo ordine della partecipazione. Ma per questo deve essere, anche il teatro deve essere un po' cattivo, deve portare lo spettatore non a solamente sentirsi manipolato, deve anche fare capire allo spettatore che lui è un manipolatore.